Previsioni per mercoledì 17 febbraio. Cielo nuvoloso in mattinata, coschiarite sempre più ampie nella seconda parte della giornata. Precipitazioni diffuse durante la notte, nevicate al di sopra dei 1100-1200 metri sul Pesarese, a quote più alte sul resto dell'Appennino. Temperature in lieve diminuzione, con venti inizialmente deboli nord-occidentali, tendenti a ruotare e a divenire moderati nelle zone interne. Mare mosso. Grazie a tutti.